Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Eterno Padre, intendo onorare San Termene Gildo Martire, chiuso in carcere per la confessione della fede cattolica, e non avendo voluto ricevere nella solennità pasquale la comunione da un vescovo ariano. Per comando del perfido Padre fu colpito con una scure, ed entrò re e martire al possesso del Regno Celeste invece di quello terreno. Vi rendo grazie per tutte le grazie che voi gli avete elargito. Vi prego di accrescere la grazia nella mia anima per i meriti di questo Santo Martire. E da Lui affido la fine della mia vita tramite questa speciale preghiera, così che per virtù della vostra bontà e promessa, San Termene Gildo possa essere mio Avvocato e provvedere tutto ciò che è necessario in quell'ora. E per il possesso del Regno Celeste. Così sia. Padre nostro che sei nei Cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo Regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. E allo Spirito Santo.